molto crudo però forse proprio per via della sua crudezza un cappolabore anche se bisogna sperare che di casino come quello che c'è stata nella seconda guerra mondiale ce la siamo lasciato una volta battuta dita alle spalle alle spalle parla poco ma fa molto casia come un san francisco dagli occhi innocenti cilestrini pronto a parlare con gli uccelli e amara stretta nel saccappottino azzurro il basco rosso in testa i guanti di lana color notte anche la ha piccolato con solo indurito dal ghiaccio ma la mano che si scavava la terra diventava più morbida alla fine ha saltato dentro la fossa cominciato a tirare via il fango con la parla ammocchiandola sopra la neve avevano persino trovato dei fiori anzi li ha trovati fare pagandone una tombola come ha commentato lui da un fioraio che aveva riappato la bottega per sopravvivere tra virgolette chissà da dove venivano quei tulipani giganti petali rossi che sembravano a tremare per freddo sulla tomba scavata di fresco ricoperta di terra e di neve a mezzogiorno erano di nuova a casa un bevuto del vino che ferro ci teneva per le grandi occasioni in onore di tadeus ha detto piangendo un buon vino passito che veniva direttamente dall'italia ha garantito anzi dalla sicilia ma l'etichetta era scritta nel polacco hanno fumato delle puzzolenti sigarette fatte con un trinciato che vendevano per strada a mezzo fiorino al grammo hanno divorato dei biscotti allo zenzero pure loro saltati fuori dall'armadio misterioso di ferec sempre tenuto chiuso a chiave ma il dottor zabbò non è rimasto con loro a godere del passito siciliano ha salutato tutti e se ne andato via sulla porta l'ha raggiunto a ferec per consegnargli un berretto che appartenuto a tadeus lui della maraini leggera manca la lista della spesa come su come successo per umberto eco per quella gente lì mettila tu lui non ne avrà più bisogno è di buona l'anno il dottor zabbò ha preso il berretto con le due mani l'ha ricirata fra le dita l'ha usato come cercando l'odore dell'amico scomparso poi con gesti lenti solo è calcato in testa ed è uscito senza dire più la parola i gusti ai tubi scusati dell'acqua sono stati riparati da Hans che si è fatta prestare una fiamma sidrica della staglia la finestra però non si sono potuta aggiustare per mancanza di vetro le hanno tappata la maglia con la tela cerata se ha anche ricostruito i suoi rotoloni di cotone idrofilo e li ha incollati agli angoli in modo da evitare le spifferi non potevano continuare a rimanere in quella casa era chiaro a tutti erano che parlavano di andare a miscork dove aveva una sorella a miscork scusate dove aveva una sorella orvat voleva rientrare a Vienna e anche l'uomo delle gazzaglie amara pensavano a Vienna come a un rifugio ma senza lascia passare difficile uscire per giorni e giorni avevano vissuto di pesche sciroppate alla sala marcia che si trovava nei magazzini scusate alla sala marcia che si trovava nei magazzini di stato che avevano riaperto alle parte vi vendevano ribi di scarpe color cenere maglioni spinose come cespugli di more sapone che si scioglievano nell'acqua in pochi minuti dentifrici che non si sa come arrivavano già spermutti a metà capotti militari usati quelli sì in abbondanza e poi strani baschi fatti all'uncinetto che venivano dalla cina paese fratello con cui la russia e di conseguenza l'ungheria avevano avuto rapporti tempestosi ma con cui il nuovo governo dopo l'uscita antistralinista di khrushchev e dopo la visita di mao stava facendo affari si diceva che ma era stato uno di quelli che avevano insistito per la repressione sovietica così come aveva fatto tito che pure sembrava un tifoso di nanti nei primi giorni della rivolta lo stesso comportamento aveva avuto togliati che rappresentava il partito comunista più grande più prestigioso d'europa dicono fra l'altro che sia stato più feroce nel tacciare di contro rivoluzionare l'insalti ungheresi che secondo lui andavano schiacciati senza pietà nei magazzini di stato nelle 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 botteghe riassestate scusate si trovava a panno latte fresco solo dei barattoli di latte condensato con una grossa scritta in cieco stampigliate stampigliata sopra della carne secca in forma di bastoncine torcigliate che si danno ai soldati in trincea grande abbondanza di pesche sciroppate che venivano dalla jugoslavia segno dei nuovi rapporti di fratellanza con un paese che fino a un mese prima era stato nemico a cerim ansia amara ogni giorno andavano a lottare al becche lui a cercare il calvo che gli aveva proposto di rilascia passare per l'austria lei a tentare di dettare gli articoli dal vivo tra virgolette ma il calvo non si trovava e le linee funzionavano a singhiozzo nonostante questo amare è riuscita a dettare due lunghi articoli fra l'interruzione l'altro se avrà messo tre ore era comunque in ritardo il giornale aveva già dato le notizie servendosi delle agenzie internazionali intanto hanno aperto il testamento di taddeus che lascia al figlio assi duemila fiorine a ferroci immobili i libri le carte un disegno prezioso di munca che stavolta ha ricevuto in eredità dal padre a secco salotta al becche e ha trovato il calvo ala in cambio di duemila fiorini gli ha dato per biglietti tra lascia passare per viena e ora eccoli qui orvat completamente rimesso dalla polmonita nonostante il freddo nonostante la mancanza di medicina nonostante il disagio di quei giorni allegro e contento passeggia per il treno chiacchierando con l'uno e con l'altro non porta più i calzettoni è tornato ai sandali da frate ai pantaloni che lasciano scoperta le capelli bianche magrissime rigate da serpentali bluostri la sola novità si è tagliato i capelli bianchi che davano ingombra gli occhi lucicano bellissimi nella faccia lunga sulla faccia lunga e anche ansia sembra più giovane la morte del padre lo ha incopito in compenso affure di trafficare per casa uscire al freddo cercare legno da ardere per la stufa e girare tutta la città a piedi si è fatto asciutto e robusto il ciuffo castello li scivola sempre sulla fronte proprio in questo momento alle storie di arreso come usciuto da una grave malattia alla faccia